Siamo ad una nuova esibizione, questa volta un brano italiano, Veronica Ricci. Veronica, allora tu hai scelto questo brano di Arisa, meraviglioso amore mio. Non ti facciamo parlare ora. Lei viene dalla scuola di Torrita Tiberina, quindi... Veronica Ricci. Grazie. 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 Grazie a tutti. Così non ho paura mai, così non ho paura mai. Veronica Ricci, grazie. Allora, questo brano possiamo dire a chi lo vogliamo dedicare? Ai miei genitori. Non sei innamorata in questo momento, ho capito, ho capito. Però ai genitori bisogna sempre dire grazie. E grazie a te, Veronica Ricci. E allora...